Assessore Sclocco, oggi è stato presentato in Regione un importante progetto di prevenzione per gli istituti scolastici superiori, di cosa si tratta in particolare? Il progetto si chiama la Sanità incontra la scuola e di fatto associazioni, diciamo varie associazioni, tra le quali anche l'associazione Amico Medico fatta da professionisti dell'AS di Pescara andranno nelle scuole a portare avanti i progetti di prevenzione su temi importanti per i ragazzi, quali il tabaggismo, l'alcolismo, le dipendenze in generale o anche i pericoli della strada. Sono temi delicati, sono i temi ai quali i ragazzi devono essere sensibilizzati, proprio perché prevenire oggi, far conoscere il problema significa evitare una malattia o una dipendenza. Ringrazio i professionisti perché gratuitamente faranno questo lavoro negli istituti di Pescara, in alcuni istituti superiori e ringrazio naturalmente gli istituti superiori che apriranno le porte ai professionisti. Sono molto soddisfatta di questo perché, così come abbiamo detto più volte, è importante che ognuno metta a disposizione la propria professionalità, la propria esperienza e perché no il proprio tempo libero a favore del benessere dei cittadini abruzzesi e quindi ringrazio in particolar modo i medici, tra i quali molti primari, della ASL di Pescara. Essendo temi molto delicati, a volte forse le famiglie si sentono anche in difficoltà, essendo anche l'adolescenza un periodo particolare all'interno della famiglia ed è molto difficile che i genitori riescano ad affrontare sempre alcuni discorsi, quindi la terza età e la professionalità dei dottori sicuramente agevolerà questo lavoro di conoscenza e di sensibilizzazione. Grazie a tutti.